A chi dedichi questo trofeo? Una persona? Una persona sola viene il nome di Mirko Fersini perché è un ragazzo del 1995 che assieme a Lombardi, Filippini, Pollace e tutti gli altri è cresciuto insieme a loro e sarebbe in questo gruppo e starebbe festeggiando la vittoria della Coppa Italia. La mia dedica credo che lo sappiano tutti è per Mirko Fersini che era il mio migliore amico e saremo un po' tristi però allo stesso tempo felici perché gli dedichiamo questa Coppa. Il 15 venite in tanti perché ci sarà il suo primo memoria alla Fiumicino, faremo un triangolare con altre due squadre di Fiumicino e sicuramente ci sarà tanta gente quindi venite perché lui se lo merita questo e altro. Un pensiero va a lui perché giochiamo nello stadio intitolato a lui quindi non potrà mancare un pensiero a Mirko. Grazie a tutti.